Anz Atebor, questa partita contro il Lipsia, quarti di finale, gara di andata, tutto pronto in casa l'Atalanta? Sì, tutto pronto. Noi abbiamo fama, abbiamo tanto voglia di giocare questo tipo di partite, siamo arrivati qua al quarti e secondo me domani sarà una bella partita. Anz, messa da parte, girato pagina da domenica, quindi la partita contro il Napoli? Sì, certo, dobbiamo guardare sempre avanti, non abbiamo tanto tempo per pensare, per essere delusi perché domani c'è subito un'altra partita. Questo è un altro campionato, c'è un altro tipo di gioco e noi siamo pronti, noi vogliamo fare qua il risultato. Squadra offensiva all'Atalanta, non è da meno l'Ipsia, che partita sarà? Che partita ti aspetti? Non lo so, io spero che sarà una bella partita, abbiamo visto negli ultimi anni che loro hanno fatto sempre bene, giocano sempre in avanti, giocano sempre con tanti giocatori che vogliono attaccare, come noi. Speriamo che sarà anche domani così e speriamo che sarà una bella partita. Era destino che vi doveste incontrare, perché già a Lisbona, in Champions League, se l'Atalanta avesse vinto col PSG, affrontavate l'Ipsia? Sì, lì dovevamo giocare già contro di loro, però sì, peccato che lì non è riuscito, finalmente giochiamo qua contro di loro e vediamo domani.